Ciao a tutti ragazzi, sono Cielo Fizzis e quest'oggi Margherita affronterà Francesco Su Peggle Nella sfida finale Vuoi affrontarlo? Sì Ok Tieni No, le cuffie no, non me la sento No, se le mette Francesco Perché sta lui di qua Aspetta che ti alzo la sedia Ok Vai, aspetta, ti metto duello Sono più grande di me E affrontatevi Che carino il mio pisolo Io sono ciccio però E ce l'hai già al ciccio Allora va bene, via Cominciate, tocca Che bello Questo è più facile però Bravo Io sì che so come E Francesco guadagna un pochino Io me la metto qua Vai Fran E quando Carolina che si organizza il villaggio Male No scherzo No scherzo, fai pure Ho messo tutto volume Felice te? Io non ci stavo Tutto volume Dai che questo è facile Ma fai perché C'è la super guida Perché è il potere dell'unicorno E il che gioco sa il potere di dividere Mi batte Mi batte Sembra di sì Per ora sì Mi batte Marge Dove avete fare tre partite Ma c'è quella rosa che ti dà tanti punti Capita il volume così forte che lo sento anch'io senza le cuffie Come fai starci te? Riesce a stare così Beh ormai l'ho fatto 18.000 Come fai? COO? No No vabbè tanto vince Fra È un boss Oh e Ale Apprezzo ancora il magico potere E ha fatto centro Grande Fra Ma comunque sei ancora in vantaggio Che schifo di tiro fatto Che schifo di tiro fatto Ma è fra che questo è facile Ma io non so che potere abbia Dividi le palline Quando colpisci il verde No No Super vantaggio Ho perso Sì Adesso ha vinto Marge Ok ancora due Prossimo Due? Ma non era una Due No io non voglio più Ah ok Vabbè sono sapenti No mi ha fatto due partite Sì ma questa è quella finale Il video sennò viene di 5 minuti Ok Io sono istintiva Ma non Ma addirittura Guarda Non ha fatto tanti punti In realtà Sì ok Io ho questo 15.000 No 8.000 Quattro No Perfetto Perchè io zero No vi siete scambiati Il mouse Cioè Cioè Francesco ha giocato come se fosse Margherita E Margherita Ma dai Allora Io ho fatto guadagnare 7.000 punti Vabbè siete più o meno la pari Ok Adesso Adesso sarebbe giocato Margherita Quindi adesso tocca di nuovo Francesco Ecco Ma scusa Che senso ha? Quello lì sei te Non vedi che è il criceto Tu sei il criceto E perchè allora no E fa due volte Guarda che ti ha fatto guadagnare 11.000 punti eh Infatti Adesso tocca a te Io mi sto impegnando però Ok Alla fine però Il vantaggio è lui dopo questo casino Chi è lui? Ma Francesco è il vantaggio E perchè te credo Non si capisce niente Ok comunque si è risolto adesso Vai Ma io adesso lo faccio perdere Ma che lo fai perdere? Eh certo E vado a perdere Ma adesso facciamo perdere la vicina Eh Eh Beh Ho avuto il fondo sì Ma dai Hai perso un casino di punti Chi? Te Eh dov'è No Ha fatto Perdi il 25 Ma non c'è che sta giocando Non ci sto capendo niente Lui sta giocando adesso Lui è l'unicorno Tu sei il ciccio E' detto te che volessi il ciccio Ma non l'avevo capito Dai Però avevo capito che avevano fatto il contrario È perso ancora Ho vinto Per fare punti Te credo Tu hai varato Ma non c'è che colpo Ok ultima La facciamo oppure Facciamo senza Eh Guarda il Francesco ha vinto davvero di 3.000 Quindi la prossima potresti vincere te Sì dai facciamo l'ultima Questa Io non voglio più essere sto dizio eh Voglio essere lui Tu sei l'unicorno Francesco Ah allora voglio essere quello sotto Ok tu sei sempre il ciccio Sì il ciccio è bello Ok adesso tocca a Francesco Prima non ho capito niente sinceramente Eh è successo un patatrack Tanto non è successo niente Dai qui Non ha tutto sotto contro Non ci sto capendo più niente Io lo butto qua perché va di male No Se colpivi il verde facevi tantissimi punti Dicalo prima Eh ti ho detto Il verde è il potere No non è finito Eh No Cacchio sta vincendo Tranquillo Il verde Prendi il verde Eh vabbè Oh guarda No 60.000 punti Ho vinto Marghe No lo so Ho fatto un tiro extreme Ho ucciso il ciccio Ecco di nuovo Mamma mia 60.000 Olè Attivate la piramide Io ne avevo fatti di più Di 70.000 qua 60.000 80.000 Avevi quasi fatto la festa estrema Tocca te Marga Se colpite tutti i pallini Alla fine fate un super mega coso eh Tutti quelli arancioni E' stato colpendo manco uno Eh non so cosa sto facendo Tre ne rimangono Fatima Io sto facendo cosa a caso Chi colpirà l'ultimo vince tutto eh Come? Alla fine chi colpisce l'ultimo pallino arancione fa la festa estrema Che è una potenza allucinante L'ho fatta anch'io Sì però hai perso lo stesso Invece Io ho fatto 85.000 punti 85.000 punti Dai che è una cazzata questo Attenzione Festa estrema Francesco fa la festa estrema E vince con 25.000 punti In più Caro guarda quanto ho fatto Anch'io ho fatto la festa estrema 111.000 punti Vabbè ci voleva tanto 165.000 punti Ok ragazzi è stata una sfida epica Per oggi tutto Ci vediamo al prossimo video Non dire così Vi piace a Redez Vi piace a Sinergo Vi piace a Fedez Ma chi mi conosce? Hanno 500.000 iscritti Z Seguite Yotobi E FabiJ che sono i migliori No FabiJ no No FabiJ ha i migliori E migliori Ciao a tutti Dopo ce lo fico Ciao a tutti